Bene, a lei la parola. Qual è la temperatura che aumenterà di più entro la fine del secolo senza protezione del clima? Questa è la domanda, la media annuale della temperatura delle acque profonde dei laghi, la media annuale della temperatura superficiale dei laghi o le temperature estive medie nei fiumi alpini? Vi lascio rispondere a questa domanda. Cominciamo la presentazione discutendo della temperatura, visto che abbiamo parlato molto di portata, vediamo perché la temperatura è una variabile importante. Poi parleremo dei cambiamenti osservati, i cambiamenti passati e i cambiamenti futuri e poi passerò la parola a Martin Schmid che vi parlerà di laghi. Perché è importante la temperatura dell'acqua? Perché tutti gli ecosistemi acquatici dipendono dalla temperatura del loro habitat e questo verrà affrontato in dettaglio nella prossima presentazione. In secondo luogo la temperatura è importante per tutta la chimica dell'acqua, per esempio se pensiamo all'acqua sotterranea, la temperatura riguarderà la temperatura di quest'acqua che diventerà la nostra temperatura potabile. E poi l'industria svizzera utilizza quest'acqua per il raffreddamento e questo attraverso i nostri corsi d'acqua con un aumento conseguente della temperatura dei fiumi per i laghi. I laghi hanno diversi regimi di mescolamento che dipendono dalla temperatura e dei cambiamenti della temperatura avranno un impatto sul regime di circolazione e di mescolamento di quest'acqua. E poi quanto è importante è che ci sono pochi mezzi di mitigazione, pochi mezzi quindi di contrastare questo aumento della temperatura dell'acqua. Per quanto riguarda il passato abbiamo visto le stazioni di misurazione in Svizzera, vedete in verde i fiumi dell'Altopiano, in rosso quelli senza i fiumi e ruscelli dell'Altopiano nel Giura, in blu i fiumi con vaccino imbrifero alpino e in grigio i fiumi con marcati dei flussi discontinui. E se guardiamo qual è l'evoluzione degli ultimi cinque anni, vediamo un'evoluzione lineare di circa 0,3 gradi per decennio. Dal 70 i nostri fiumi hanno aumentato la temperatura di un grado e mezzo. Abbiamo un riscaldamento di mezzo grado per decennio, un riscaldamento poi di 0,2 gradi per decennio in inverno. Se prendiamo queste diverse famiglie di fiumi abbiamo da un lato i fiumi dell'Altopiano con o senza laghi che sono riscaldati più rapidamente, che si sono riscaldati di 0,4 gradi per decennio. Questo mostra che i laghi non hanno molto effetto, si poteva pensare che avrebbero l'allentato riscaldamento, fino ad ora non vediamo questo effetto. Questo effetto è 0,4 gradi per decennio che si sentono e sono già percettibili. Se prendiamo l'estate 2018 molto calda, abbiamo una sovramortalità nelle popolazioni di pesci e poi le centrali nucleari, per esempio la Mühleberg che ora non è più in funzione, il funzionamento è stato interrotto perché l'acqua era troppo calda. Nei bacini alpini il riscaldamento è meno marcato, perché questo? Ci sono due ipotesi principali, cioè neve e ghiacciai. In un'estate calda ci sarà più fusione di neve residua e di ghiaccio e quindi si compenserà il riscaldamento con quest'acqua di fusione. Il manto nevoso e il ghiacciaio è un po' un'isolazione per il terreno, si hanno delle temperature relative a in base. Ma come diceva Massimiliano, questa mattina ghiacciai scompariranno senza protezione climatica, quindi fino a quando avremo questo effetto di protezione nei bacini alpini. Se prendiamo quel che abbiamo simulato per il futuro, in media annuale non vediamo una grossa differenza tra i bacini dell'altopiano e quelli alpini. I bacini in periferi alpini arriveranno praticamente al livello dell'altopiano a seconda se si utilizzano delle misure di protezione o meno. E se prendiamo ora a livello stagionale, abbiamo delle disparità molto grandi fra l'altopiano e le Alpi. Sull'altopiano un riscaldamento più marcato è in stato più di 4 gradi rispetto all'inverno. Nei bacini alpini la situazione è molto difficile, diversa. In inverno abbiamo poco riscaldamento perché nell'ambiente alpino l'aria in inverno è molto vicina a 0 gradi e se si passa anche da meno 8 a meno 0,3 si è sempre freddi e al di sotto ha dello 0. D'estate invece il riscaldamento è molto più marcato nei bacini alpini che entro la fine del secolo potrebbe arrivare a più 6 gradi o anche 8 più 8 gradi per estati estreme. Ancora più elevato dell'aumento previsto dell'aumento della temperatura dell'aria. Perché con il ritiro dei ghiacciai il suolo perderà isolazione, ci sarà meno freddo che arriva nel sistema d'estate e come abbiamo visto nella presentazione sulle portate vi sarà uno shift nelle portate d'estate. Il periodo d'estate abbiamo delle grosse portate ma questo verrà anticipato in futuro verso la primavera e quindi si sarà molto più sensibile alla temperatura dell'aria e questo porterà a un riscaldamento dei bacini alpini. Quali sono le conseguenze di questo riscaldamento? Abbiamo un indicatore, il numero di giorni all'anno in cui la temperatura dell'acqua supera i 25 gradi perché 25 gradi è un limite legale per utilizzare l'acqua per raffreddamento. Se prendiamo un bacino come la Biers nel nord ovest della Svizzera non si è mai arrivati sopra i 25 gradi. Con protezione del clima sarà continuato ad essere così. Con misura, senza misura della protezione potremo avere un mese e mezzo, fino a un mese e mezzo in cui si supererà questa soglia dei 25 gradi. Quindi acqua che non potrà essere utilizzata. La Broa, cantone di Vaux e Friborgo che è più calda della Biers, abbiamo di solito 15 giorni, il di sopra di 25 gradi. Con misura di protezione aumenterà e senza misura di protezione avremo a un mese e mezzo in media di superamento, fino a due mesi di superamento dei 25 gradi. Questo non permetterà l'utilizzo dell'acqua per raffreddamento. E se ora passiamo all'impatto sulle temperature delle acque sotterranea, abbiamo visto nelle presentazioni precedenti che oggi abbiamo un po' più di precipitazioni d'inverno che d'estate. Abbiamo un'infiltrazione di acqua fredda d'inverno e infiltrazione di acqua calda d'estate, quindi più caldo che arriva d'estate. Con il cambiamento climatico che abbiamo visto prima avremo più precipitazioni d'inverno e meno d'estate, molto meno d'estate. In inverno avremo più acqua con una maggiore infiltrazione, raggiungeremo dell'acqua fredda nel sistema d'inverno ed estate, anche se l'acqua è più calda, non avremo più infiltrazione perché avremo meno portate nei fiumi e più apporto di calore nel sistema. E di conseguenza non ci sarà un impatto molto forte sulle acque sotterranee, per quanto sappiamo oggi questo, per la parte acqua di superficie, acqua sotterranea e Martin Schmidt vi parlerà ora dei laghi. Grazie. Grazie Adrià di questa introduzione, vi parlerò dai corsi d'acqua, passeremo ai laghi. Abbiamo visto un clima a sé stante. Vedete il regime di mescolamento del lago di San Moritz, c'è una stratificazione, a San Moritz abbiamo la superficie che è più calda, poi d'estate e d'inverno i laghi vengono raffreddati. Quindi vi sono due tipi di laghi di Svizzera, i dimittici, che d'inverno vanno al di sotto di 4 gradi e si mescolano in autunno e in primavera e sono coperti eventualmente di ghiaccio. Poi abbiamo il monomittico come l'Untersee, il lago di Costanza, la maggior parte dei laghi del Doppiano si mescolano una volta all'anno e sono monomittici. Gli esseri viventi di questi laghi sono abituati a questi regimi. Nel progetto IDROCH 2018 abbiamo fatto i calcoli per 29 laghi, vedendo come cambieranno in futuro a seconda dei regimi climatici. Un clima più caldo può portare a far sì che i laghi dimittici possano diventare in futuro monomittici, che si mescolano una sola volta all'anno e non più due volte all'anno. Come esempio vedete i risultati dei nostri calcoli per il lago di Joux. Il lago di Joux oggi di solito è coperto di ghiaccio d'inverno e per 5-6 mesi è stratificato. Senza protezione del clima probabilmente non ci sarà più copertura di ghiaggio e che la statificazione estiva, la stagnazione estiva durerà di due mesi più a lungo. Il regime di mascolamento nei laghi è importante per l'abitata per i pesci d'acqua e fredde. Vediamo le temperature nel Greifensee. Per i pesci che amano le acque fredde d'estate è troppo calda la temperatura, lo vediamo qui nella foto. I pesci possono andare verso il basso però nei laghi dove l'acqua è più fredda, però lì c'è un altro problema perché d'estate si utilizza l'ossigeno e quindi c'è poco ossigeno d'autunno e al di sotto della linea gialla non possono sopravvivere perché mancano di ossigeno in questo strato dell'acqua. Quindi c'è una piccola zona di pochi metri in cui i pesci che amano le acque fredde possono vivere nel Greifensee. Con il cambiamento climatico le temperature superficiali dei laghi aumenteranno. Senza misure di protezione le temperature della maggior parte dei laghi aumenteranno di 3-4 gradi fino alla fine del secolo. Con misure di protezione l'aumento sarà di circa un grado. Non vi sono grosse differenze fra i laghi perché questo riscaldamento è impattato dal clima. Se prendiamo la temperatura di superficie, se aumenta di 3 gradi qui nella Greifensee, l'habitat diminuisce per i pesci e aumenta anche la stratificazione più presto e questo significa che prima si consumerà anche l'ossigeno più in profondità dell'acqua e quindi ci sarà una moria di pesci nel Greifensee, cosa che è già successo e che potrebbe avvenire più di frequente in futuro. Un'altra possibilità è che alcune specie che amano le acque fredde scompariranno da questi laghi. Per le temperature delle acque profonde i risultati sono meno omogenei. Nei grandi laghi dell'altopiano, a destra, vediamo che le misure delle acque profonde aumenteranno di 2-3 gradi senza protezione climatica. Nei laghi alpini e quelli piccoli il cambiamento sarà inferiore perché questi laghi rimarranno dimittici e in inverno l'acqua scenderà a 4 gradi e quindi il clima non ha un impatto e continuerà ad avere questa temperatura di 4 gradi anche in primavera e come abbiamo visto prima per i corsi d'acqua. Il nuovo clima per questi esseri viventi acquatici, un nuovo clima per la vita acquatica. Vediamo che la differenza è come l'Inghilterra del Sud e il centro Italia. È come se queste vite acquatiche, questi esseri, questi pesci dovessero andare ad abitare dall'Inghilterra del Sud e spostarsi al centro Italia. Potrebbe essere interessante per scopi turistici forse, ma non per i pesci. Dovete immaginarvi che bisogna andare dall'Inghilterra a Roma, però senza cambiare abiti, con gli stessi abiti che si utilizzavano a Londra. Anche per voi sarebbe forse un impatto grosso. E ora vediamo, i prossimi dettagli verranno trattati nelle prossime relazioni. Grazie dell'ascolto. Grazie.